Vaccini, priorità a chi è in forte sovrappeso. Le persone affette da obesità, anche lieve, sono maggiormente a rischio covid. Sono infatti più predisposte a sviluppare forme gravi della malattia che possono portare fino al decesso. A più di un anno dallo scoppio della pandemia, numerosi studi hanno confermato che quanto più l'eccesso di peso è marcato, tanto più elevato il rischio che corre chi risulta positivo all'infezione. Dunque, spiega la nutrizionista Sara Bartolaccini, a chi è in sovrappeso è consigliato rivolgersi al proprio medico di base e chiedere di essere iscritto alla vaccinazione indipendentemente dalla sua età. Chi ha un BMI, quindi un indice di massa corporea superiore a 35, quindi un obeso grave, può richiedere al medico di base di essere inserito nella lista dei pazienti fragili e quindi poter essere vaccinato. Deve essere il medico di base, magari anche con delle analisi del nutrizionista, a indicare che il BMI di questo paziente è realmente maggiore di 35. A confermare la necessità del vaccino per le persone in sovrappeso sono i numeri. I pazienti più giovani ricoverati in terapia intensiva per polmonite bilaterale e interstiziale sono nella maggior parte dei casi obesi e spesso anche affetti da diabete e ipertensione. Durante questo anno si sono monitorati molto quei casi di pazienti che sono stati ricoverati e hanno avuto quindi necessità di ricovero pur non essendo pazienti fragili o comunque con patologie essendo anche soprattutto pazienti giovani e si è visto che la maggior parte di questi pazienti erano in sovrappeso o in un'obesità importante. Questo perché? Perché il paziente obeso è un paziente molto infiammato e quindi molto più soggetto a 20 avversi dal covid.